Non è che vieni! Non è che vieni! Non è che vieni! Non è che vieni! Stai bene! Non è che vieni a me là dentro, aiutela! Siamo noi di solo, stiamo facendo tutto il possibile, ok? Ci possiamo parlare! Ma vanno a pegarci! Bisogna fermare l'emologia! Non so che ci vuoi! E che vuoi? Stai! Aiuto! Sì! Sono Roger Hemsley, quello di Alastair! Opre questa volta un'altra porta! Sua figlia è qui con me! Sì! Sì! Sono qui, guarda lì! Mi ha avuto in Ennes, 30 caratteri ozzi, 45 caratteri ozzi, ha avuto il rischio medico, 8.800 caratteri ozzi. 8.800 metri? Che più vuole? 8.800 metri! Siamo diretti verso il lato nord del Monte Everest, signore Resto. E se non si accendono i motori, non sopravviveremo all'impatto. E se non si accendono i motori, non sopravviveremo all'impatto.